1.579 euro sono stati raccolti nella gara di solidarietà promossa dall'Associazione Prologo Fondi in favore di Marco Pannone e i suoi familiari. Come si ricorderà nella notte tra il 2 e il 3 dicembre scorso, vigliaccamente Marco è stato aggredito e è stato ricoverato in ospedale, tuttora è in ospedale e i medici per ora non sciolgono la prognosi. Questa raccolta è stata indetta attraverso un IBAN dedicato intestato all'Associazione Prologo Fondi e attraverso per ora due eventi, quella della persona dell'anno dove sono stati raccolti 150 euro e i due concerti tradizionali di Capodanno organizzati dal Fondi Music Festival dove il pubblico presente ha offerto 750 euro, quindi per un totale di 2.579 euro raccolti. Ma la gara di solidarietà non finisce qui perché continua attraverso l'IBAN comunicato attraverso i mass media così da poter continuare ad aiutare questa famiglia che davvero ha bisogno del nostro sostegno.